Salite! Oh! Oh! Mette salite! Cosimo! Che fai là? Sali? Voi l'ho chiuso! Qua l'ho! Qua l'ho fatto? Qua l'ho fatto? Qua l'ho fatto? Qua l'ho fatto? Ma andiamo! Ma andiamo! Oh! Oh! Come dice come è successo? Allora qui, eh! Ai ce il pigliate! Oh! No se il pigliate! Sono come! Francesco! Francesco, dove puoi andare? No! Francesco! So' chiuso di 13! Ci ha tinto! Guardate! 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 il pallone grande Anthony mi stai nel rap, forse ricostiamo aspetta, fallo usiamo un po' Voi senti? Sì, senti il conto. Voi senti? Voi senti? Voi senti? Sì. Voi senti? Sì. Voi senti? Voi senti. Voi senti! Andate sin to Ondra Maspoos Voi senti? Voi senti? 2 da 15 o no? mezzo oh oh io fai più forte chi sei più forte? si è più forte chacun ha fatto il giro? quando avete fatto il giro? 19 16 e di già nuove e arriviate in stanza per seconda l'fc ma noi siamo 20 e che c'è? 100 è stata tu ah si che c'è? è solo 100 è una persona 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 si è 100 si ma dici forte non puoi tirarli ma è bellissima chi ha detto è 2.500 vai vai faccelo passa sta balla dai cosa c'è? ha giocato tutto il partito no no ragazzi passate la palla e sapete dovete spruzzare quando si gioca non c'è basta o prima che parte tutti quanti non giocate capite? non ti capace non ti capace non ti capace sai ma non ti capace pensi no non ti capace stai stai sempre stai 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 in stai stai Non ti vanno a finire Ludovic quando stai? Quattro a ferro Quanto stai? No ma c'è stretto eh Il muro Dio quando è iniziato Non c'è tanto giocare Vieni a voi Ragazzi Stanno 2, 0, 0 5, 0 Stanno 2, 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 0 Grazie. Sì, vada! Sì, vada! Sì, vada! C'è il nostro! Ma ma che stai scegliando? Partito! Gliocandoni! Ma dove va? Ma che rigolo? Ma dove va? Ha giocato qui? Vada! 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 Fai... Ciao a fai qui! Venga, vuoi? Ah... Venga, venga! Fai... si 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 Andrea scusso scusso hai visto che fa male ma non è Angelica chiamati Andrea Angelica chiamati Andrea 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 Angelo Angelo Andrei in birra Ehi, mi senti male! Dai, panna! Dai, panna! Dai, panna! Ehi, vieni, vieni! Vai, Gerica! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Dandone, no! L'abbiamo avanti! Andavatevi! no la 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 non è fuori angela non è fuori angela non so ma 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 vincenzo ma non sapevo mai perchè mi ha dato no andiamo a me la causa si vieni e ehi buongiorno buongiorno ma ehi buongiorno una yoga, yoga da manco, stai. Grazie. Lo metto contro la nuova. Ma che c'è? Ehm, ok. Oh, Yon. Ah, aiuta. E' un genio di giudice. 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 Ceras, ma allora è un CHn! Ma voglioadiarvi un altro, Non ci sarò insieme alore. Ma dove fai mio? Ma che va fai? Bryan? Ma che c'è? Dobbiamo andare un' ACRI. Dobbiamo… Ma perché non è l' Fazio? Facciamo vedere i vari propri. Ho questo cioè… E' un genio di gremioni per il suo編. Ceras. Guarda c'è! pensate Angelo! Cosimo chiamate Angelo! 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 Devi tornare Angelo! Ma no! Tutti sono un uomo! Ma si è allenato o non è giocato? Marcate! Non ce l'hai ma si è allenato? Eh te ne stai in corso! Alessio, ho inutile a chi manda E' amico! Amico! Meglio! Ho in un gioco che ha matato Ma no! La squadra sembra che ero io e Eugenio Mi mandi la palla? Mi mandi la palla! Chi ti la palla? Quelli sono soli! Angelo! Stai in banchino! Stai in banchino! Stai in banchino! Guardalo! Guardalo! Vai subito! Te l'ho detto che devi andare su un tavolo! No! Guardalo! Guardalo! ok 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 accogli 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 facci il gol gol no non mi ha sgarazzato non mi piace ti faccio 3 seconda la traccia la faccio io a scuotere da me c'è i pulltini, tutti i pulltini il pulltino è doppio, almeno non dirò niente andò la sua linea andò la sua linea alla core ma buco andrea andrea scusami andrea 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 ma la bella ma non puoi andare ma ho due assicurazioni e ci sta come fanno? stella ma ce ti fa più bella aspettati la fai ancora qua la faccia la fai la fai fare dividere la fai fare dividere maionese sceglie ma la bella buona ma si sceglie tra loro un pallone non c'era mangiato che prima giochina? no, prima giochina mangia! vai l'attacco no, metti l'attacco Antonio Vito, passa un difeso aspettelo allora, Antonio che ha mangiato io ma chi è che fa l'altro? Alessio Alessio ma questo è il problema andiamo andiamo un uomo dei suoi deve andare andiamo andiamo vai sotto vai sotto non ti preoccupare sicuramente oh, è madonna andiamo vince chiamati Andoni andiamo 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 chiamatelo Andoni 10 ma è giocato deve giocare come ti cosimo veloce cosimo e com'è andiamo e in e Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 e Ma non li conosce, non conosceva Cosimo, non conosceva Anza, non conosceva Andrea. Gli altri due sono già lì, si mettono paura del pallone. Mi sono fatto il pepe del mister, mi sono fatto il mister, la domanda a Mario. E che ci stai a fare se non gli diamo le indicazioni? Mettetemi in difesa! Ma me ne metti quattro in difesa, gli puoi? No, lui! Ma è stato come mister! Andrea, copri questa proiettoria! No, sono come mister! Ma ci pareva che è andata! Ma non lo fa spiegare Ma non lo fa spiegare! Ma non lo fa spiegare! Copri, al posto di parlare! Ehi, come ti fai? Andrea, valla, la guardiamo! Guardi, attaccate! E qua, ma dai! ho vinto non troppo non troppo ma viene nel da vinto angelico Io lo posso in piedi a giocattarsi? Angelico posso in piedi a giocattarsi? Vedi lì! Andrè! Eh? Lo posso andare a farci prasa? Lo posso andare a farci prasa? Lo posso andare a farci prasa? Andrè io in tacco cosi non la lascia! Tre fischi finita no? Si